Poi se mangiamo il panzerotto pugliese, ecco qui, queste le pocacce, eccolo raga, comunque è bollentissimo proprio, che ci metterà poco il peso, bello grande comunque, ecco qua, l'assaggiamo, buono, guarda, Ok, 25 di rama, buono, guarda, guarda che è stupetto del top, comunque, ragazzi, compratevi tanti questi, 6 euro, panzerotti e bene, qui penso 2 euro che pagano, ma so, veramente buoni, faccio poco bene, Io invece il fratello mi sto a mangiare le stighiole, le conoscete? Comunque, ragazzi, oggi è l'ultimo giorno, purtroppo, qui con me l'ho assaggiato, roba siciliana, pugliese, e poi altre cose che stanno, tipo, vabbè, la carne argentina, questa roba napoletana, però sono romani quell'altro, quindi non ho preso niente, ragazzi, avvocacia pugliese, voto 10, dai, buona giornata. Grazie.